5.5.5 top criptovalute che andiamo ad analizzare oggi, di cui uno ha fatto numeri stratosferici nell'anno 2023, numeri che addirittura vanno vicino al 2.780% di rendimento. Chi di voi si ricorda chi è? L'ho appena mostrato, a dire la verità, vediamo se siete attenti. Questa cripto è anche una cripto abbastanza grande e non ha un'inversione di trend neanche a pagarla oro. Le altre invece cripto sono importantissime, tra cui c'è anche Ethereum, ragazzi, le andiamo a vedere perché? Perché queste criptovalute nei prossimi giorni potrebbero indicare un segnale interessante di una zona di buy che sembra si stia andando a configurare proprio in questi giorni. E quindi questo è un video che mi serve da qui a dieci giorni circa perché se le cose vanno come, spiegherò in questo video, potrebbe essere interessante, potrebbe esserci una zona di buy interessante che potrebbe lasciare spazio a poi il prossimo mese, a tutto quello che verrà, diciamo, con l'inizio dell'anno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, benvenuti, lasciatemi un mi piace ovviamente se siete appena arrivati, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, oggi analisi top cripto, top 5 cripto. Ma prima, prima di andare avanti, lo sponsor di oggi che è NordVPN, ragazzi, torniamo a parlare di Nord, soprattutto in questa fase pre-natalizia, VPN in particolare è molto importante perché vi protegge dalla fuoriuscita delle vostre informazioni quando navigate, soprattutto i dati di navigazione vengono coperti, vengono nascosti, e anche il vostro indirizzo IP, potete fare tante cose con NordVPN, ad esempio collegarvi come se siate ad esempio in un altro paese, in un'altra regione, quindi alcuni servizi delle criptovalute, alcuni exchange per esempio, vi fanno operare perché in Italia magari non funzionano, ce ne sono alcuni, magari ne torneremo a parlare nei prossimi giorni di queste cose, e poi NordVPN vi dà la possibilità, tra le altre cose, di andare a ragionare, diciamo, sulla questione delle varie funzionalità, tra cui ovviamente la protezione durante la navigazione dei dati, ma anche e soprattutto la questione legata, che mi piace veramente tanto, alla password manager, come ve ne ho sempre parlato. Ma perché ne parliamo anche oggi? Perché nella questione legata alla Christmas ci sono dei scontisti, che è una scontistica diciamo particolare, che è questa qui ragazzi, cioè quella legata proprio a Natale, il 65% di sconto più tre mesi gratuiti per le varie offerte, andatele a vedere dal link che vi lascio in descrizione, e niente ragazzi, poi fatemi sapere, a prescindere cosa ne pensate, dell'uso di queste VPN anche nel settore delle cripto. Andiamo alla prima criptovaluta che andiamo a vedere oggi, che è Ethereum ragazzi, perché Ethereum ha una configurazione grafica interessantissima e sta andando a creare una cosa che di frequente capita. Intanto sono dell'idea ragazzi di farvi vedere quello che qualcuno di voi si ricorderà, abbiamo mostrato nel mio video di qualche settimana fa relative alla divergenza, il segnale della divergenza è avvenuto. Quel video andatelo a vedere, ve lo pusho sulla mia testa ragazzi, così vi ricordate insomma tutte le informazioni che avevamo detto in quel video là, perché si stanno verificando esattamente proprio queste divergenze. Sull'indicatore SRI, questa è una media dell'indicatore SRI, la potete vedere in maniera abbastanza chiara, questa strutturazione che sta andando a configurarsi, mentre invece qui abbiamo un massimo con un massimo superiore. Questa è una divergenza sull'RSI che teoricamente metterebbe in allerta su una serie di criptovaluta, e ce l'ha anche Bitcoin, su quel segnale che vi dicevo tempo fa. Ora, non che sia l'apocalisse ragazzi, però sono divergenze che a volte hanno bisogno un po' di respiro, cioè magari far scendere un po' la cripto in questione e per un po' di giorni far riposare l'indicatore in modo tale da farlo ritornare in questa zona, e una volta fatta questo discorso qui magari poi si può riprendere, quindi in sostanza magari una leggera strutturazione ribassista. Ed è proprio quello che andiamo a vedere oggi su queste top 5 cripto, perché si stanno andando a configurare delle analisi, delle indicazioni importanti dalla price action. Intanto ragazzi, il reversal di oggi, nella stessa giornata di oggi, è importantissimo perché? Perché da qua abbiamo avuto un massimo su Ethereum e lo stesso anche su Bitcoin, qui abbiamo disegnato una gamba rialzista che va a coincidere tra le altre cose, ve lo faccio vedere, con un segnale di Fibonacci molto interessante, e cioè il raggiungimento in pratica del livello di 78,6 di Fibonacci pericolosissimo, perché va a creare un reversal point importante. Sul breakout dei minimi di questa candela, che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi, o potrebbe avvenire nella giornata di oggi, si configura la conferma dell'inversione da breve periodo, brevissimo periodo, sancita da questo pattern di price action ragazzi. Questa cosa, cosa significa? Significa che teoricamente il tentato raggiungimento dei massimi per ETH prende una pausa, cioè si ferma in questo punto. Ancora non ha rotto i minimi della candela di oggi, quindi ancora non l'ha confermato il pattern ragazzi. Però, insomma, potrebbe farlo oggi o domani, perché oggi è video di venerdì, quindi poi magari sabato e domenica dovete guardarlo voi. In più, tra le altre cose, è all'interno delle due medie mobili che io utilizzo come aria di supporto di resistenza, che hanno retto il supporto ad Ethereum in tutta questa fase di rialzo da ottobre 2023. Anche in questa fase, vedete, sono riuscite a contenere. Qui c'era stato un tentativo di break, ma le medie non si possono utilizzare come trigger point, cioè non possono essere utilizzate perché vengono breccate. Allora, quello è il segnale, ragazzi, o meglio, si può fare, però dovete poi utilizzare una serie di stop, eccetera. Meglio utilizzare altri segnali, insomma, in questo caso, per esempio, in questo contesto, bisognava attendere il breakout di questo livello di minimo, piuttosto che solo della media. Questo è tutto. Cioè, per esempio, ci sono tanti altri modi di fare, di migliorare. Però, in realtà, questo livello, come insegno anche nel mio, come spiego nel mio corso, nella lezione, come operare con le medie 21 e 11, ragazzi, lo spiego chiaramente questa cosa. Deve essere anche consistente il break, cioè dobbiamo abbandonare quest'area delle medie. Non può essere certamente una shadow o un break di questo livello, seppur confermato in chiusura daily. Deve essere un po' più pronunciato. Cioè, una cosa del genere, allora già aveva senso. Però, in linea di massima, anche qui, ragazzi, basta una giornata rossa nella giornata di domani e, vedete, siamo vicini a questa struttura. Avremo la conferma del pattern che vi dicevo e avremo la conferma anche dal breakout della media. Quindi bisogna andare molto attentoni in questa fase. Vi faccio l'esempio chiaro su Ethereum perché poi quasi tutte le altre crypto hanno la stessa formazione, tra le altre cose. Su Ethereum abbiamo una idea abbastanza chiara, cioè dal minimo dell'11-12, scusate, di ottobre, è iniziato un ciclo T più 3 per gli amanti della ciclica, cioè un trimestrale, ragazzi. È un ciclo trimestrale che teoricamente dura su ETH più o meno da 70 a circa 90-95 giorni. Questa cosa qui, ragazzi, ok? Quindi in questa area temporale. In pratica, cosa significa? Che teoricamente, teoricamente, in questa zona potremmo andare ad assistere, temporalmente parlando, non di prezzo, ora vediamo i prezzi, potremmo andare ad assistere ad un consolidamento di questo trend rialzista per riprendere fiato e dopodiché iniziare un nuovo ciclo trimestrale che, attenzione, nel caso di ETH dovrebbe essere il secondo dell'annuale, quindi ancora molto forte. Questo è quello che dice l'analisi ciclica in teoria. A meno di situazioni stranissime e a meno del fatto che qui ancora l'annuale non si sia chiuso in questo punto, ma ci sia sempre la questione di questo benedetto movimento che ci riportiamo ancora dietro. Manca poco per buttarlo via, perché ormai, anche volendo, ragazzi, siamo in questa zona, quindi solo e qualora l'annuale di ETH sia iniziato a novembre, non a giugno, possiamo avere un'anomalia da questo movimento. E negli altri casi, no. Perciò, in sostanza, se da qui iniziamo a scendere in maniera vertiginosa, dobbiamo riprendere la questione dell'annuale perché non ci stiamo dentro in questo punto. Se qui è iniziato un nuovo annuale, il prossimo trimestrale di ETH sarà forte. Teoricamente dovrebbe essere proprio così. Però, ovviamente, ragazzi, le previsioni sono previsioni. Abbiamo un livello adeguato di probabilità, ma restano comunque probabilità. In ogni caso, il tentativo operativo sarà certamente quello di andare a cercare una zona di minimo in questa fase per assumere delle posizioni rialziste e cavalcare l'eventuale movimento. Qualora poi si venga stoppati, amen, prendiamo uno stop. Ma le probabilità sono favorevoli in questo caso, quindi ha senso farlo. Ciò significa, però, in concomitanza con questa questione, che potremmo assistere a rifiatamento debolezza fino a quando? E beh, ragazzi, fino a Natale. Nella zona di Natale, in pratica, potremmo assistere a queste fasi di debolezza, cioè, da qui a 10-15 giorni. Se questa fase avviene, è una chiusura trimestrale per ETH e significa anche che dobbiamo avere gli occhi sbarrati così aperti, scusate, non sbarrati, e in modo da guardare quello che è la situazione e poter assumere una posizione rialzista. Attenzione che se il mercato sarà forte, non credo che ETH darà grandi punti di ingresso, cioè farà il giro immediatamente di boa, eccetera. Però, attenzione alla volatilità. C'è un livello che possiamo andare a ragionare su ETH e in questo caso è il livello di supporto in questa zona qui, che è la vecchia resistenza che era stata breccata in questa fase, cioè circa 2.080-2.150 dollari. Queste sono fasi importanti ed è interessantissimo andare a vedere questa zona. La vedremo insieme, passiamo alla seconda cripto di oggi, che è la prima volta che le parlo, non le parlo da un po', che è DOT, ragazzi, perché DOT ha iniziato una fase ciclica interessantissima e volevo farvela vedere. Eccola qui, come ETH, anche Polkadot, ha iniziato questa fase interessante di rimbalzo, però a differenza di Ethereum, qui abbiamo un'idea abbastanza chiara, che dal minimo dell'ottobre 2023, cioè 19 ottobre 2023, si è iniziato un nuovo ciclo annuale. Tra le altre cose, su Polkadot, ancora non abbiamo superato il livello di resistenza importante che segna l'inversione del bear market in maniera definitiva e questo significa da un certo punto di vista che ancora la cripto è debole, ma significa anche da un certo punto di vista che ha ancora tanto spazio, perché se avviene questo breakout, ovviamente poi continuerà a salire. è la stessa cosa che ha fatto per esempio AVAX pochi settimane fa. Quindi qui cosa significa, ragazzi? Che potremmo assistere proprio su DOT a una fase anche qui di debolezza proprio perché ha incontrato un livello di resistenza che però non è una debolezza da prendere come un disastro, ma bensì da attesa di ingresso long anche su questa cripto per un'eventuale chiusura del ciclo trimestrale anche in questo caso. Dove avverrebbe questa chiusura del ciclo trimestrale? Sempre a cavallo tra questo momento, diciamo, tra Natale e la fine dell'anno in questa zona qui. In pratica, ragazzi, a 70, vedete, siamo intorno al 28 di dicembre, si potrebbe assistere appunto a questi giorni di riposto trading range sotto questa zona qui. prima di tentare un breakout. Se questa view è corretta, ragazzi, ovviamente non sono consigli finanziari, vi sto dicendo quello che personalmente sto facendo io, cioè monitorerò queste cripto, alcune le abbiamo già inserite, per esempio in Academy abbiamo due progetti legati ai portafogli di cripto, li abbiamo già identificati e li abbiamo già messi in atto, siamo in fase di accumulo, non siamo in fase di grossi investimenti perché stiamo accumulando, però per esempio la portafoglio che sto gestendo io che ho pubblicato settimane fa, un mesetto fa l'abbiamo iniziato e già più 16-17% su questo accumulo che vi ripeto è un accumulo quindi ancora abbiamo spazio diciamo per entrare con altri capitali e queste cripto le sto guardando appunto ragazzi quindi qui vi dico quello che faccio io non sono assolutamente in ogni caso consigli finanziari perché per manovrare criptovalute di questa entità o avete formazione che vi ripeto praticamente in ogni video oppure non lo potete fare se lo fate a vostro rischio e pericolo ma 99,99% periodico è difficile che riuscirete a portare a casa qualcosa nel lungo periodo magari nel breve sì la singola operazione ma nel lungo periodo ragazzi sarà difficile vendere sarà difficile fare tante cose quindi io ve lo dico come lo dico da 5 anni a questa parte non mi sono mai smettito il mercato mi ha sempre dato ragione da questo punto di vista è semplice ho fatto gli stessi errori quando ero molto più piccolo ho iniziato a fare cose senza formazione facendo danni e queste cose si imparano anche sulla propria bellaccia ragazzi ok quindi non è una cosa strana eccetera allora dot nell'ottica di questa cosa dove potrebbe arrivare secondo me anche su questa cripto un'eventuale fase di respiro potrebbe essere anche brevissima e non avere grandi risvolti in termini di prezzo però come sempre le cripto sono estremamente volatili quindi bisogna stare poi a vedere dove arriva ci sono tante cripto che si possono andare a mettere sotto i nostri occhi e sotto il nostro telescopio quindi non serve se qualcuno non ci dà il segnale giusto ce ne sarà un'altra che ci darà il segnale giusto in ogni caso io qui vi inserisco un livello in mezzo alle mie due medie cioè intorno ai 6.50 6.25 la attendiamo e vediamo cosa succede terza cripto una cripto la quale io sono molto affezionato mi piace tanto non è rune quella ormai la avete la conoscete ma è una cripto nuova ed è uniswap ragazzi perché uni è anche messa in una situazione molto particolare non ha mai performato benissimo in questa fase di alzista è ancora al palo e soprattutto è chiusa 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 in questa struttura di pricing che è un'altra barra di congestione uni come altre criptovalute è una di quelle cripto secondo me che ancora lascia lo spazio di rialzi importanti nella seconda fase eventualmente ci sarà un altison perché ancora non ne ha fatti granché questo è il discorso quindi ancora una volta su uniswap abbiamo un ciclo annuale che dovrebbe essersi chiuso ad ottobre 2023 tra le altre cose con una lingua di buyer abbastanza evidente una lingua di buyer cioè un'imperfezione ciclica raccordo ciclico che va in pratica a indicarci una quasi diciamo semestrale un semestrale corto direi così insomma di lingua di buyer che insomma indica palesemente in eventualità un lancio di un ciclo almeno biannuale addirittura ecco direi ragazzi perciò in linea di massima anche questa cripto va tenuta sotto stretta osservazione perché se stiamo andando a chiudere il ciclo trimestrale dovrebbe essere il primo trimestrale del ciclo annuale anche qui io mi aspetto un ribasso fino a natale tutte queste cripto ci indicano a questo punto che le prossime settimane potrebbero essere debolucce e di respiro anche su bitcoin questa cosa ne parliamo lunedì però in linea di massima mi interessa questa fase dove la fase di buy di uni io a dire la verità già da ieri ho iniziato qualche accumuletto però questa è la zona che mi sto prefissando intorno ai 5.60 ovviamente anche in questo caso piano di accumulo su queste cripto interessante come operatività perché sono talmente volatili che un timing definito non ha mai senso in questo contesto è sempre meglio fare scaling in cioè entrare a pezzettini e scaling out quando si esce e uscire a pezzettini questa è una tecnica di cui parleremo poi più in là ragazzi qualora questa fase delle criptovalute dovremmo poi cavalcarle nei prossimi mesi ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale e seguitemi perché ci sarà da ridere tra le altre cose volevo anche ricordarvi perché è arrivata a questa lunghezza del video che il mio canale telegram è finalmente stato verificato quindi vi lascio il link in descrizione perciò addio agli scam anche qui ragazzi quindi il mio canale telegram l'unico che esiste alla spunta blu su telegram e mi potete trovare dal link che vi lascio in descrizione perciò tutti gli altri canali sono scam ragazzi perché veramente abbiamo lottato a dire basta ora siamo verificati su twitter instagram facebook e telegram perciò tutto quello che vi dico in questo caso è se non c'è la spunta blu non sono io ok ricordatevelo vi lascio il link di telegram in descrizione allora questa è la la nostra terza cripto quarta che so che piacerà a tantissimi e poi andiamo a quella che ha fatto boom boom che invece è interessantissima da andare a vedere perché ragazzi stellare veramente stellare progetto che io conoscevo poco devo essere sincero peccato mi sarebbe piaciuto conoscerlo e cavalcarlo diversamente perché a livello di trend e di analisi tecnica era spettacolare ma io non conoscendo il progetto non sono riuscito a cavalcarlo come avrei voluto perché poi non metto capitale dove non conosco allora il progetto quarto top è eagold ne abbiamo già parlato eagold ha dato già un segnale ed è già nel mio portafoglio per esempio tra quelle che sto seguendo perché ha breccato questo livello di massimo uscendo e dichiarando finita la sua fase di bear market sul minimo di settembre a differenza però delle altre criptovalute eagold è già nel secondo trimestrale quindi quelle che vi ho mostrato finora sono in chiusura del primo trimestrale e sono tutte tre potenziali nuovi pump dopo il trimestrale se continuiamo questa fase rialzista se ci sarà l'approvazione dell'etf di bitcoin quindi tutto avverrà in questi giorni da qui al 20 di gennaio ragazzi perciò o la va o la spacca come si suol dire se l'etf non arriva e beh poi teniamoci un po' no? ne parleremo nei prossimi giorni però quelle cripto sono interessanti quindi un po' di money management un po' di stop un po' di costa utilizzate gli exchange a proposito vi lascio il link anche di bit get buy bit in descrizione trovate tutti gli exchange che io utilizzo sempre ragazzi queste sono operazioni da fare su exchange scortatevi del DEX per cose del genere perché è difficilissimo stare dietro al trading utilizzando ancora quegli exchange anche se ho idea di parlarvene perché sto facendo una serie di test come sapete io parlo solo dopo aver testato in maniera molto approfondita determinate cose allora qui per quanto riguarda Eagle siamo in fase di chiusura del mensile del trimestrale già in corso io mi aspetto dopo questa fase della chiusura del mensile la ripresa è un nuovo massimo in questa zona anche Eagle sono in fase di accumulo in questa zona poi potrebbe fare un pullback di questo livello di supporto intorno ai 53 e qualcosa c'è poco da dire su Eagle è iniziato il nuovo annuale da questa zona probabilmente settembre o ottobre anche qui è difficile andarlo a chiarire perché se anche andiamo a sviluppare per esempio una struttura fatta così non siamo non è preciso diciamo se è iniziato ottobre settembre io ho indicato in questo modo a dire la verità c'è anche l'altra opzione cioè l'opzione che qui in pratica sia tutto da spostare che quindi Eagle in questo caso stia chiudendo come le altre il trimestrale identico alle altre ragazze in pratica tutto quello che vi ho detto però a me piace avere view differenti perché in questo modo io controllo più possibilità più scenari diversi quindi su quelle tre utilizzo lo scenario principale su questa sto utilizzando un altro scenario seppur già sono consapevole del fatto che comunque anche questa crypto può stare all'interno dello scenario che vi ho detto prima ma lo scenario che vi ho detto prima l'ho già analizzato quindi ne analizzo un'altra un'altra alternativa tanto cambia poco ragazzi e quindi anche questa diciamo potrebbe essere interessante andiamo a vedere l'ultima di queste top 5 crypto la bestia tra virgolette ragazzi Injective un progetto assurdo ha fatto dei numeri pazzeschi ragazzi incredibile veramente incredibile anno 2023 nel settore delle crypto non c'era più nessuno da gennaio tutti sconsolati tutti nella fase di depression del ciclo dell'investitore e quello che è successo è esattamente quello che succede da sempre da 100 anni in ogni mercato cioè i mercati hanno fatto un anno stellare per quanto riguarda bitcoin stellare ethereum stellare alcune criptovalute solana stellare Injective abnorme direi più che stellare tantissime crypto hanno fatto numeri giganteschi ragazzi e non c'era più nessuno in questo settore che si interessasse diciamo al settore incredibile ma anche no ragazzi ve lo dico in maniera chiara se non fosse così i trader che faremmo no che faremmo no qualche trader sta già sorridendo per dire se c'erano tutti bravi non che facevano vabbè questo è vero però aumentiamo comunque la fase diciamo di questa zona allora qui su Injective o luglio 2022 o dicembre 2022 iniziata una nuova struttura ma teoricamente dal minimo dal settembre 2023 dovremmo essere in un nuovo ciclo annuale quindi ha una forma completamente a sé rispetto alle altre criptovalute è difficile da andare a decifrare sono sincero perciò teoricamente potremmo essere in questa struttura che va ad accumulare probabilmente un nuovo ciclo annuale da questa zona qui allora qui abbiamo già chiuso un trimestrale che vedete ha 71 giorni vedete quello che vi sto facendo vedere anche su Injective è esattamente quello che potremmo attenderci sulle altre cripto che vi ho mostrato prima cioè questa fase ragazzi una fase così vedete una down e up e poi boom chiusura del ciclo trimestrale e nuovo ciclo che parte questo è quello che possiamo vedere su tutte le quattro cripto che vi ho fatto vedere prima ed è lo stesso tipo di disegno di price action tenetelo a mente se qui è iniziato quindi questa nuova fase anche su Injective siamo in pieno sviluppo del ciclo trimestrale quindi chi di voi possiede già la cripto potrebbe anche stare fermo e non fare nulla tra le altre cose intorno al mese alla fine del mese e quindi sempre a Natale ci sarà la chiusura del ciclo mensile che potrebbe essere perché no anche un punto di ingresso anche su questa per un'eventuale nuova fase di bump ma c'è da dire che la cripto ha corso veramente tanto ragazzi quindi chi di voi la vuole tradare lo può fare come trading come position fatelo con cautela perché ovviamente vi faccio vedere dai minimi di dicembre quindi 2022 gennaio 2023 siamo al 2700% non so cos'era successo ragazzi ma sono tornato che era sparito il monitor che forse si è avuto paura che il monitor ho detto 2700% va bene allora detto questo ragazzi qui con questa diciamo fase di questa ultima cripto chiudiamo e vi auguro un buon weekend io sarò in giro di nuovo per il mondo nei prossimi giorni però noi ci vediamo lo stesso perché alcuni video li ho già preparati e ovviamente quando è insomma vi faccio un briefing per gli aggiornamenti sempre sui grafici buon weekend a tutti e fatemi sapere chi di voi sta guardando queste cripto cosa ne pensate scrivete nei commenti anche i ciclisti tra virgolette che siete molto preparati così ci confrontiamo ciao ciao